Musica Guardo il cielo, che allegria! Vedo il sole, quanta energia! Sento il vento, che rumore! Muove tutto, anche il motore! L'acqua scorre dalla sorgente e aiuta tutta la gente! Sotto terra, un gran fermento, il vapore fa del riscaldamento! Acqua, sole, vento e calore! Se li utilizzo, rendo il mondo migliore! Buongiorno, sono una delle insegnanti della scuola primaria Dante Alighieri di Nociara Umbra. Ringraziamo Hunter, perché portando il sole in classe, ci fa conoscere forme di energia alternativa per tutelare l'ambiente. Vento, acqua, sole e vapore sono i protagonisti dell'elaborato dei nostri alunni, che ora sanno che produrre energie in modo pulito si può. Votateci! Votate la scuola primaria Dante Alighieri di Nociara Umbra. Con il premio vorremmo acquistare redi e giochi per lo spazio esterno della nostra scuola, per godere di aria e di sole. Come ambasciatore di Hunter ringrazio il dirigente scolastico, le maestre e tutti i bambini che hanno partecipato al sole in classe. Invito tutte le famiglie di Nociara a votare per questo bellissimo lavoro che i bambini hanno realizzato. Questo per aiutare a vincere la scuola di Nociara e perché no magari da avere anche il nome della scuola di Nociara scritto nella prima aula in Kenya che Hunter dedicherà come premio ai vincitori. Grazie a tutti e votate tutti quanti insieme per vincere per un mondo migliore.